La seconda volta in cui la lettura d'Antis Francescana si incrocia con il Festival Francescano, l'anno scorso abbiamo avuto il dottor Palma e abbiamo parlato della parola libertà insieme sempre ad Anna Pegoretti e la formula è la stessa dell'anno scorso, cioè abbiamo pensato di fare una lettura d'Antis, che quindi al centro il canto di Dante, la poesia di Dante, ma Francescana declinata nel senso di una parola, una poesia che si rivolge a tutti, non agli studiosi o agli appassionati soltanto di poesia, ma a tutti, da una parte per portare a tutti e condividere con tutti la poesia di Dante, dall'altra parte per trovare nella poesia di Dante delle parole forti che ancora ci interrogano nel nostro tempo. E su queste parole forti chiediamo di volta in volta a un intellettuale, a un protagonista del nostro tempo, di riflettere insieme a noi, partendo da Dante, ma arrivando soprattutto a noi, a oggi, al nostro tempo. Quest'anno abbiamo voluto incrociare in modo ancora più pieno, intenso, il festival francescano, scegliendo la stessa parola che risuona in tanti eventi di questo festival, cioè la parola fiducia, e abbiamo chiesto di accompagnarci al professor Vittorino Andreoli, che l'anno scorso ha aperto proprio il primo incontro di tutti i cicli della lettura d'Antis franciscana con la parola paura, paura, si ricorda, professore. Siamo partiti dal primo canto dell'inferno con la parola paura, e quest'anno mi sembra bellissimo dare una continuità piena, passando al secondo canto dell'inferno, dalla paura alla fiducia, alla fiducia. E il secondo canto dell'inferno, come sempre, ci sarà presentato da uno studioso di Dante, in questo caso Anna Pegoretti, che ha già fatto in tante altre occasioni, ha già svolto questo ruolo importante, cioè di presentare brevemente il canto che poi sarà recitato, interpretato magistralmente da Jacopo Trebbi, non lo vedo, ma sicuramente c'è da qualche parte, il nostro attore che abbiamo eletto ad attore ufficiale della lettura d'Antis franciscana, e che quindi, insomma, ci farà sentire la parola di Dante e la poesia del secondo canto dell'inferno. Questo è un canto bellissimo, celebre, che tutti in qualche modo ricordiamo, è quello che vede in scena per la prima e unica volta insieme le due guide di Dante, Beatrice e Virgilio. E quindi è un momento unico e straordinario, e viene mostrato in questo canto tutto il motore del poema e del viaggio di Dante. Ebbene, in questo canto risuona per due volte non tanto la parola fiducia, che non compare proprio in questa forma, ma il lessico della fiducia. Ci spiegherà poi Anna Pegoretti in modo più preciso dove compare, come, con quale significato. Quindi ecco, questo è il nostro programma di questo pomeriggio. Anna Pegoretti, che è professoressa di letteratura italiana all'Università Roma, di Roma 3, ci spiegherà, ci accompagnerà, ci darà una mappa di lettura del canto, in modo che poi possiamo goderci pienamente la lettura, la recitazione di Jacopo Trebbi e godersi in fondo, comprendersi in fondo la poesia di Dante. E poi il professor Andreoli partirà, se vuole, dal canto, ma in ogni caso rifletterà, partendo e dialogando con Dante, sul senso della parola fiducia nel nostro tempo. Il professor Andreoli, lo presento anche un libro brevemente adesso, in modo che poi possa più rapidamente passargli la parola, non ha bisogno davvero di presentazioni, è un medico, uno psichiatra, uno scrittore, uno degli intellettuali più importanti del nostro tempo, che partendo dalle sue conoscenze mediche e psichiatriche, però riflette sui grandi temi dell'umanità. E il suo ultimo libro, lo ricordo perché particolarmente bello, importante, uscito qualche tempo fa, è Storia del dolore. Quindi siamo davvero molto grati al professor Andreoli per aver accettato di essere con noi nei momenti importanti. Il primo incontro in assoluto l'anno scorso e questo incontro invece della lettura antifranciscana con il Festival Franciscano. Dunque io direi di partire subito dando la parola ad Anna Pegoretti, che ringrazio perché ci accompagna sempre in questa avventura. Grazie a te Giuseppe, grazie agli organizzatori del Festival, a frate Maurizio perché è sempre un piacere insomma collaborare con voi. Allora non era facile, ce lo siamo detti quest'estate Giuseppe, declinare il tema della fiducia in chiave dantesca, perché ci sono dei valori, dei termini che sono più palesemente presenti in Dante, ad esempio proprio quello della speranza, che però naturalmente nel poema ha uno spessore teologico piuttosto ingombrante. però ecco anche in questo caso la scelta che hai fatto Giuseppe è assolutamente perfetta, perché è anche perfetta e calzante a quelle che immagino siano state le motivazioni degli organizzatori del Festival, che in un tempo così pieno di insomma pericoli, in cui insomma si fa un po' fatica ecco ad avere fiducia in questo momento, nel futuro e negli altri, ecco in realtà ci invitano, ci invitano a rimettere al centro la fiducia oltre la paura. E tutto sommato questa è esattamente la situazione in cui ci troviamo all'inizio del poema. La selva oscura c'è le berri, ma naturalmente può essere interpretata in svariati modi, però in buona sostanza ci parla di una situazione di grave, gravissima difficoltà esistenziale, una situazione addirittura di prossimità alla morte, di grande paura, di grande sgomento e smarrimento. In questa situazione compare un aiuto, una luce che è quella di Virgilio. Ora i commentatori, i primi lettori di Dante, i commentatori antichi, tendevano a leggerla in modo solo a leggere Virgilio, ma anche Beatrice e altri personaggi, in chiave quasi solo simbolica, allegorica diremmo. Per cui per loro Virgilio era la personificazione della ragione, cioè di quella qualità che distingue gli esseri umani dagli animali, in buona sostanza dalle bestie. E che è una qualità che hanno tutti, indipendentemente dalla loro fede, che quindi hanno anche i pagani. Però Virgilio non è solo quello, perché se fosse solo quello, forse Dante avrebbe scelto Aristotele, che magari era più adatto a impressionare la ragione. Perché Virgilio? Virgilio ha qualcosa in più in realtà. è un poeta. E vedremo come proprio la poesia sia la cosa in cui Dante ci invita ad avere fiducia. Ad avere fiducia nella parola, nelle capacità, per sue osorie, ecco, della parola, e nelle capacità della poesia. In questo canto direi che la cosa è piuttosto evidente. è Virgilio, che Dante dichiara suo maestro e suo autore, ancora nel primo canto, e che gli propone quella che è una via del tutto paradossale. Cioè gli dice, guarda, che la tua possibilità di scampare alla morte passa da, cioè devi fare giro lungo, in buona sostanza, devi visitare tutto l'aldilà. E la cosa a cui, insomma, mi è venuto da pensare, preparando queste chiacchiere, è che si parla molto, naturalmente, del ruolo di Virgilio, ma non si parla mai del fatto che Dante gli dice, ok, va bene, vengo. Insomma, cioè, non è che andiamo a visitare l'inferno, non è la prima cosa che ti viene da dire, va bene, vengo. Infatti, nel secondo canto, Dante ha un momento di esitazione. Allora, l'inizio di questo canto è celebre, i due si sono avviati, ed è sera, si sta facendo sera. Lo giorno se ne andava e l'aere bruno toglieva gli animai che sono in terra dalle fatiche loro. Cioè tutti gli esseri viventi a sera si riposano. E io soluno, questo soluno rilevatissimo, infine diverso, proprio a isolare, no, l'esperienza personale e un'esperienza di solitudine, ma apparecchiava, cioè mi preparavo a sostenere la guerra, sì del cammino e sì della pietate, che ritrarrà la mente che non erra. Ovviamente non leggerò tutto il canto, perché poi Jacopo Trebbi lo farà molto meglio di me, però questi versi meritano di essere davvero soppesati bene, perché Dante ci dice subito che questa è una guerra. È una guerra perché il cammino sarà particolarmente periglioso. Noi sappiamo che va a finire bene la commedia, ma dobbiamo leggerla come se non sapessimo come va a finire. I momenti in cui nell'inferno Dante davvero ha motivo, buoni motivi per pensare di non uscirne vivo sono parecchi. Ed è anche una guerra delle emozioni, della compassione, la guerra della pietà, perché naturalmente la vista delle pene, dei dannati, sfigurati proprio dalle pene, provocherà in lui grande compassione. Una guerra che la mente, la memoria, ritrarrà senza sbagliare. Ora, questa immagine della quiete della sera, del fatto che tutti, insomma, smettono di lavorare e tornano a casa tranquilli, potremmo dire, e dall'altra invece della solitudine del poeta tribolato, ha un'enorme fortuna poetica, anche successiva, nei secoli successivi, nella nostra letteratura, tornerà in Petrarca, tornerà in Leopardi, naturalmente, dolce, chiara, la notte, senza vento, ma tu dormi, donna amata, ma io, no, io sono piegato dall'amore e dalla sorte. Però, ecco, la differenza è che mentre in questi poeti lirici prevale la maninconia, in Dante no, prevale l'azione, perché c'è bisogno di prepararsi alla guerra. E qua, appunto, succede quello che vi dicevo prima, cioè Dante ha un momento di esitazione, di grande paura. Dice, aspetta un attimo, si rivolge a Virgilio e gli dice poeta, è la prima parola che dice poeta, proprio a sottolineare il fatto che Virgilio è lì in quanto poeta, che mi guidi. Allora, considera bene, se io sono in grado di sostenere questo viaggio, guarda la mia virtù, se l'è possente, prima che all'alto passo tu mi fidi, cioè prima che mi affidi a questa impresa eccezionale e perigliosa, valuta le mie capacità. E a quel punto, ecco, parte un momento che naturalmente gli studenti tendenzialmente detestano, perché non capiscono, non collegano l'importanza di queste cose, ma che in realtà è un momento assolutamente fondativo di tutto il poema. Cioè, Dante richiama, il Dante personaggio, richiama due altri personaggi storici, per lui storici naturalmente, e che hanno compiuto un viaggio nell'aldilà. E gli dice, tu stesso, Virgilio, racconti che Enea, di Silvio il parente, è Enea, visitò l'aldilà, l'immortale secolo, quando era ancora vivo, cioè ci andò sensibilmente, con i sensi. Dante sottolinea spesso, rivendica spesso, di avere fatto questo viaggio con il proprio corpo, in carne e ossa. Però, c'era un buon motivo, perché Enea era stato addirittura eletto, nel più alto dei cieli, quale padre dell'alma Roma e di suo impero, di quella Roma, che poi sarebbe diventata anche sede del papato. e quel viaggio era necessario, il viaggio che tu racconti, si sta riferendo al sesto libro dell'Eneide, naturalmente, in cui, intese, sentì quelle cose che lo sprunarono alla vittoria finale, perché, se ricordiamo, durante il viaggio nell'Oltremondo, Enea incontra suo padre, Anchise, che gli predice la vittoria e la gloria futura di Roma. Quindi, insomma, Enea aveva buoni motivi per andare all'inferno, in realtà, o se è tutto l'aldilà, perché aveva questo compito altissimo. E poi ci andrò un altro personaggio, l'Ovas de lezione, ecco, altra perifrasi che gli studenti, insomma, fanno sempre un po' fatica a decodificare, in realtà, un'espressione, una formula biblica per definire San Paolo. San Paolo, una seconda epistola ai Corinzi, a un certo punto parla in terza persona, ma, in realtà, sta parlando di se stesso, dice di essere stato rapito al terzo cielo e di aver visto cose che non può riferire. Da questa, da questo breve passo, in realtà, dell'epistola, poi nasce tutta una tradizione, e così, ne emerge anche questo testo di grandissima fortuna nel Medioevo, che è la visione di Paolo, quindi una visione dell'aldilà che comprende non solo i cieli, ma anche l'inferno, e che noi sappiamo essere un testo apocrifo, ma che, appunto, è stato fortunatissimo. Ora, giustamente, Dante, Dante personaggio, dice, vabbè, io non sono Enea, tantomeno sono San Paolo, no? San Paolo che è andato, ha avuto questo privilegio, ma perché doveva portare conforto a quella fede, che poi, in buona sostanza, ha di fatto fondare la Chiesa, insomma, no? Ma io, io, perché dovrei, dovrei venire, no? Perché se del venire, io mi abbandono, temo che la venuta non sia folle. Ecco, folle è un termine iperconnotato, in Dante, folle è il volo di Ulisse, e Ulisse è esattamente il contrattare di Enea e Paolo, cioè, è colui che intraprende un viaggio verso l'ignoto senza avere una sanzione, diciamo, un'autorizzazione divina. Quindi, Dante teme di essere un po' quello che poi scopriremo essere Ulisse. E qual è quel che disvolcio che volle è la psicologia di Dante? E per novi pensieri cambia proposta, cioè, colui che improvvisamente pensa delle cose che non aveva pensato prima e cambia, cambia idea. E tal mi fecio in quella oscura costa. Il paesaggio, naturalmente, si conforma sempre allo stato d'animo del pellegrino. Ecco, questo è un momento sul quale vale la pena di soffermarsi, perché finora abbiamo seguito Dante personaggio, in tutte le sue alti e bassi, le sue emozioni, le sue paure, ma dobbiamo metterci nei panni invece per un momento dell'autore, o meglio, sederci accanto all'autore mentre scrive. Perché mentre fa denunciare a se stesso personaggio la propria inadeguatezza sostanzialmente, in realtà il Dante autore sta dicendo l'esatto contrario. Lo capiremo alla fine quando sarà andato tutto bene, in realtà Dante si sta mettendo nella stessa trafila proprio di Enea e Paolo. Mossa audacissima chiaramente, da cui non solo il viaggio nell'aldilà e il poema traggono legittimazione, ma che di fatto fa sì che Dante possa assumere le finalità che erano sia di Enea sia di Paolo cioè da un lato una finalità politica in realtà sto parafrasando un bellissimo passaggio proprio di Giuseppe Leda da un lato il fine politico ecco di annunciare il rassebillimento della pace grazie proprio all'impero quello stesso impero che è sempre erede dell'impero di Enea dell'impero di Roma sia il fine spirituale ecco di indurre gli uomini di provocare una conversione e invece era il fine di San Paolo ovviamente a quel punto Virgilio che viene subito detto magnanimo quindi è un poeta ed è magnanimo cioè una grande anima gli dice l'anima tua è di viltà te offesa cioè sei preso da vigliaccheria in buona sostanza da viltà la viltà che spesso prende l'uomo e lo fa desistere come una bestia quando ombra quando quando si spaventa sei come un animale impaurito e a quel punto gli racconta quello che di fatto è l'antefatto scusate il gioco di parole del poema io ero nel limbo ero tra color che sono sospesi e donna mi chiamò beata e bella tal che di comandare io la richiesi ecco che arriva lei arriva Beatrice descritta in fantastici bellissimi piani toni stilnovistici luceva gli occhi suoi più che la stella e cominciò a dir suave e piana con angelica voce in sua favella e così via allora Beatrice naturalmente ha gli occhi lucentissimi e parla parla appunto dolcemente e parla chiaramente con voce angelica ora nella finzione del poema siamo nel 1300 se ripensiamo alla vita nuova che parla appunto dell'amore per Beatrice Beatrice è morta da dieci anni è morta nel 1290 non solo torna ma fa una cosa che non aveva mai fatto prima cioè finalmente parla e cosa dice parla a Virgilio appunto quasi come una poetessa stilnovista anima cortese mantovana la cui fama durerà durerà fino a quanto durerà il mondo una classica la chiamiamo captazio benevolenzia però ha ragione Beatrice e gli dice guarda che l'amico mio e non dell'avventura altro verso rimasto celebre cioè quello che è amico mio ma non della sorte è impedito nel suo cammino non riesce a proseguire e addirittura temo di essermi mossa tardi temo che sia troppo tardi che lui si sia già smarrito e quindi gli dice ormovi cioè vai e con la tua parola ornata e con ciò che ha mestieri a suo campare cioè con tutto ciò che sarà necessario a far sì che Dante scampi la morte possa continuare a campare l'aiuta aiutalo sicchio ne sia consolata ecco ecco in cosa dobbiamo porre fiducia in cosa Beatrice pone fiducia nella parola ornata di Virgilio ancora una volta nella parola retoricamente composta e nella poesia la poesia salva questa è la grande notizia che apprendiamo da Inferno 2 e che forse non è del tutto inutile anche nei tempi che viviamo tutto sommato e lei poi si presenta io sono Beatrice che ti faccio andare vengo del loco ove tornardisio cioè vengo dal cielo amor mi mosse che mi fa parlare ecco lei è mossa naturalmente dall'amore la donna amata e vista in gloria al termine della vita nuova torna inverando anche da morta il suo destino di Beatrice cioè di colei che dona la beatitudine naturalmente come vi dicevo prima i primi commentatori hanno interpretato anche Beatrice come una personificazione della teologia o della grazia però certamente noi possiamo apprezzare anche tutta la qualità terrina di questo personaggio in fin dei conti tutto questo è molto umano Dante è il personaggio Dante è terribilmente umano Virgilio non è solo la poesia non è solo la ragione avrà anche tantissime emozioni sue proprie durante il viaggio e anche lei in fin dei conti è ancora la ragazza di Firenze non solo con lei che dall'alto dei cieli può salvare Dante da questo punto di vista permettetemi di fare una piccola parentesi di fare anche un po' di pubblicità la prossima settimana dovrebbe uscire il film di Pupiavati su Dante che parla quasi esclusivamente degli anni giovanili e lì c'è tutta questa questa umanità dei personaggi vi invito insomma se volete ad andare a vederlo a quel punto Virgilio risponde da par suo con parola davvero ornata anche con perifrasi piuttosto complicate per cui le dice donna di virtù sola per cui poi c'è tutta una gran perifrasi che però vuol dire in buona sostanza è solo grazie a te che la specie umana eccede i propri limiti ecco che Beatrice naturalmente in questo caso agisce anche da grazia divina ecco il tuo comandamento mi aggrada al punto che già mi sembra di essere in ritardo però dimmi qual è il motivo per cui addirittura non hai paura di scendere qua all'inferno perché tutta questa scena fantastica in cui gli occhi di lei appunto sono luminosi come le stelle avviene tutta tutta in uno dei cerchi superiori dell'inferno e nel buio dell'inferno e lei gli dice ma io non temo nulla perché Dio mi ha creata in maniera tale che la vostra miseria non mi tange che bello e il fuoco dell'inferno su di me non ha effetto alcuno e poi gli racconta un'altra cosa anche questa cruciale in tutta l'economia del poema cioè c'è una donna naturalmente una donna gentile come tutte le donne dello stil novo però questa volta una donna in cielo che naturalmente è la Vergine Maria che si compiange cioè prova compassione per Dante al punto che vince il duro giudicio divino sappiamo che Maria ha tradizionalmente il ruolo di intercedere per i peccatori presso Dio allora Maria ha chiamato a sé un'altra donna sono tutte donne queste davvero sante protettrici di Dante che è Lucia e così veniamo anche a sapere della devozione di Dante per Santa Lucia lo chiama proprio suo fedele tra l'altro questa cosa probabilmente ha una ragione storica Dante ci dice anche di avere sofferto di malattie agli occhi quindi probabilmente la devozione per Lucia dipende da lì lei ha chiamato Lucia appunto le raccomanda Dante e Lucia da chi va? va da Beatrice e lei ci dice ma cosa fa ancora qua? non senti il pianto il pianto di quei che tamò tanto che sta combattendo la morte sulla fiumana o il mar non ha vanto altro verso piuttosto tormentato nei commenti che però in buona sostanza dovrebbe stare per il fiume delle passioni quindi Dante sta lottando in riva al fiume delle passioni e allora Beatrice dice a Virgilio guarda così mi sono resa conto di questa situazione mi hanno chiamato io sono venuta subito da te la reazione istintiva di Beatrice è di andare dal poeta Virgilio fidandomi del tuo parlare onesto non è solo un parlare ornato è anche un parlare onesto dignitoso nobile con ora te e quei che ho dito l'hanno ecco lei si fida proprio fidandomi dice pone fiducia nella parola ornata e onesta di Virgilio nella poesia l'episodio narrato da Virgilio si chiude sull'immagine bellissima di lei che tace e nasconde gli occhi che piangono gli occhi lucenti lagrimando volse a quel punto Virgilio torna a parlare direttamente a Dante il racconto è finito gli dice beh insomma io a quel punto sono venuto da te quindi è tutto un canto di gente che corre in suo soccorso e ti ho salvato dalla lupa quella fiera che del bel monte il corto andarti tolse dunque che è perché perché restai perché ancora hai dubbi anche tu devi avere fiducia perché perché il mio parlare ti promette il bene ancora una fiducia nelle parole e poi tra donne in cielo si occupano di te quindi puoi ben fidarti a quel punto la reazione di Dante è descritta con una delle similitudini in assoluto più belle della commedia perché Dante si descrive come i fioretti che si sollevano e si aprono al primo splendere del sole del mattino dopo il gelo della notte così Dante si rinfranca e ha questa fiducia ritrova coraggio e si rivolge a Virgilio dicendogli ok va bene andiamo confortato dalla storia che gli è stata raccontata dall'efficacia delle parole di Virgilio che riconosce ancora una volta e ancora più quale guida e maestro così gli dissi e poi che si mosso fue entrai per lo cammino alto e silvestro grazie è stato molto gentile ecco ora grazie Anna per questa splendida introduzione e adesso Jacopo Trebbi di Emilia Romagna teatro reciterà Inferno 2 lo giorno sì del cammino e sì della pietate che ritrarrà la mente che non era o muse o alto ingegno ormaiutate o mente che scrivesti di ciò che io vidi qui si parrà la tua nobilitate io cominciai poeta che mi guidi guarda la mia virtù se l'è possente prima che all'alto passo tu mi fidi tu dici che di Silvio il parente corruttibile ancora ad immortale secolo andò e fu sensibilmente però se l'avversario d'ogni male e cortese i fu pensando l'alto effetto cuscir dovea di lui e il chi e il quale non pare indegno ad uomo d'intelletto che fu dell'alma Roma e di suo impero nell'Empirio Ciel per padre eletto la quale e il quale a voler dirlo vero fu stabilita per l'oloco santo ussiede il successor del maggior Piero per questa andata onde li dai tu vanto intese cose che furono cagione di sua vittoria e del papale ammanto andòvi poi lo vas d'elezione per recarne conforto a quella fede che è principio alla via di salvazione ma io perché venirvi o chi il concede io non Enea io non Paolo sono me degno a ciò né io né altri il crede perché se del venire io mi abbandono temo che la venuta non sia folle se Savio intendi me che io non ragiono e qual è quei che disvuol ciò che volle e per novi pensier cangia proposta sicché dal cominciare tutto si tolle tal mi fecio in quell'oscura costa perché pensando consumai la impresa che fu nel cominciare cotanto tosta si o ben la parola tua intesa rispose del magnanimo quell'ombra l'anima tua è da viltà di offesa la qual molte fiate l'omo ingombra sicché d'onrata impresa lo rivolve come falso veder bestia quando ombra da questa tema a ciò che tu ti solve dirotti per chi io venni e quel che io intesi nel primo punto che di te mi dolve io era tra color che sono sospesi e donna mi chiamò beata e bella tal che di comandare io la richiesi lucevan gli occhi suoi più che la stella e cominciò mi a dire suave e piana con angelica voce in sua favella o anima cortese mantoana di cui la fama ancora nel mondo dura e durerà quanto il mondo lontana l'amico mio e non dell'avventura nella diserta piaggia è impedito sì nel cammin che volte per paura e temo che non sia già si smarrito che io mi sia tardi al soccorso levata per quel che ho di lui nel cielo udito ormovi e con la tua parola ornata e con ciò che ha mestieri al suo campare l'aiuta si chi ne sia consolata i son beatrice che ti faccio andare vegno del loco ove tornar disio amor mi mosse che mi fa parlare quando sarò dinanzi al signor mio di te mi loterò sovente a lui tacette allora poi comincia io o donna di virtù sola per cui l'umana spezia eccede ogni contento di quel celca minor ricerchi sui tanto ma grada il tuo comandamento che l'ubidir se già fosse me tardi più non te vuoi capirmi il tuo talento ma dimmi la cagione che non ti guardi dello scendere qua giuso in questo centro dell'ampio loco ove tornar tu ardi da che tu vuoi saperco tanto a dentro dirotti brevemente mi rispose perché io non temo di venire qua entro temer si dei di sole quelle cose che hanno potenza di fare altrui male dell'altre no che non sono paurose i son fatta da dio sua mercè tale che la vostra miseria non mi tange né fiamma desto incendio non ma sale donna ma è gentil nel cielo che si compiange di questo impedimento vi ottimando sì che duro giudicio la suffrange questa chiese lucia in suo dimando e disse or ha bisogno il tuo fedele di te e io a te lo raccomando lucia nemica di ciascun crudele si mosse e venne a loco dove era che mi sedea con l'antica rachele disse beatrice loda di dio vera che non soccorri quei che tamò tanto cusci per te della volgare schiera non odi tu la pieta del suo pianto non vedi tu la morte che il combatte sulla fiumana ove il mar non ha vanto al mondo non fur mai persone ratte a far lor pro o a fuggir lor danno com'io dopo cotai parole fatte venni qua giù del mio beato scanno fidandomi del tuo parlare onesto con ora te e quei cudito l'anno poscia che m'ebbe ragionato questo gli occhi lucenti lagrimando volse perché mi fece del venire più presto e veni a te così come la volse dinanzi a quella fiera ti levai che del bel monte il corto andara ti tolse dunque che è perché perché restai perché tanta viltà nel core allette perché ardire franchezza non hai poscia che tai tre donne benedette curan di te nella corte del cielo e il mio parlare tanto ben ti promette quali fioretti dal notturno gelo chinati e chiusi poi che il sol in bianca si drizzan tutti aperti in loro stelo tal mi fecio di mia virtute stanca e tanto buono ardire al cor mi corse chi cominciai come persona franca o pietosa colei che mi soccorse e te cortese cubidisti tosto alle vere parole che ti porse tu mai con desiderio il cor disposto sia al venire con le parole tue chi son tornato nel primo proposto or va con sol volere ed ambedue tu duca tu signore e tu maestro così li dissi e poi che mosso fue entrai per lo cammino alto e silvestro grazie il nostro Jacopo è sempre più bravo Dante è sempre Dante Anna ci ha spiegato splendidamente il canto e abbiamo potuto seguire grazie all'interpretazione straordinaria di Jacopo ogni piega ogni parola ogni verso adesso ecco abbiamo finito la prima parte la parte strettamente dantesca del nostro incontro e ora abbiamo il piacere di ascoltare il professor Vittorino Andreoli che partendo se vorrà da Dante rifletterà sul termine fiducia nel nostro tempo ve l'ho già presentato prima e non aveva bisogno di presentazioni prima solo ancora una parola di gratitudine perché accetta sempre con entusiasmo e con generosità i nostri inviti grazie professore a lei la parola grazie buonasera vi devo confessare che attraverso il ritorno ad alcuni canti di Dante al primo e secondo cui ci siamo dedicati beh ho scoperto forse tardi l'avranno già fatto ma che Dante è un grande maestro di psicologia e quindi oltre a considerarlo oggi da questo punto di vista mio maestro suggerisco sempre che ai giovani che si occupano della professione del sapere di cui mi occupo è oltre ad un sapere specifico e gli avevo sempre consigliato di leggere Dostoievski Manzoni le tragedie particolare di Euripide e adesso aggiungo Dante e sovente lo metto al primo posto allora io parlando di Dante non parlo non vado al tredicesimo secolo agli aspetti storici interpretativi che sono stati presentati così bene ma vado ad un personaggio straordinario che ha capito come funziona quella che noi oggi chiamiamo la psiche e che qui come vedremo invece è un linguaggio che gira attorno alle virtù almeno non alle teologali alle virtù cardinali che come cercherò di dirvi sono delle vere e proprie rappresentazioni dei meccanismi di alcuni meccanismi psichici c'è naturalmente devo subito fare una grande differenza tra le virtù che sono quelle cardinali e le virtù teologali e per convincermene sono andato a leggere l'incipit del primo canto del paradiso in cui c'è veramente di nuovo c'è Beatrice e tutto lì si fa la chiara distinzione e nel paradiso sono le virtù teologali che diventano in qualche modo i meccanismi che sono fuori dalla psiche perché fanno parte di un sapere che è un sapere teologale un sapere persino divino in quelle virtù che voi sapete si è tanto discusso se ne parla anche oggi ma sono proprio caratteristiche che fanno parte della psicologia se voi solo pensate che c'è la fortezza che c'è appunto che ci sono tutte quelle caratteristiche che sono caratteristiche caratteristiche umane la gola l'avarizia l'ira la lussuria l'accidia l'invidia i vizi che contrappongono e che descrivono per contrapposizione meglio le virtù ed è proprio attraverso i vizi che sono chiaramente umani chiaramente comportamentali che voi capite che le virtù sono pure strumenti meccanismi umani per evitare per evitare i vizi e quindi se voi è perché siamo dotati di questi meccanismi che nel tempo che alla fine del medioevo erano chiamati appunto virtù e non certo meccanismi di difesa come ha cominciato a sostenere Freud ecco voi capite che c'è una possibile lettura di quel canto proprio in termini psicologici e io devo dire che collegarsi al primo canto è importantissimo perché là c'era la paura è un canto della paura una paura che è vissuta Dante in questi due canti almeno non è che descriva qualcosa come io potrei dirvi quando avete paura no quando io parlo della mia paura e anche nel secondo c'è il secondo è un canto questo che abbiamo meraviglioso perché perché segna il passaggio dalla paura al coraggio cioè dalla paura di agire al coraggio per agire al coraggio per per andare ed è ed è in questo passaggio che è qualcosa che noi viviamo il canto il secondo l'inferno due comincia come direi io avevo paura caro Virgilio tu mi hai aiutato quando appunto nella notte incontrando io pensavo di fare un viaggio certo importante ma non sapevo avevo deciso e quindi e la decisione non mi aveva attivato la paura la paura è un meccanismo di difesa che tutti noi abbiamo se mancassimo di paura non ci sarebbe letta in maniera evoluzionistica la specie uvara perché la paura è quel meccanismo che permette di prevedere un rischio che magari non c'è ma il fatto di prevedere mi dispone a poterlo evitare e se è vero che l'esistenza è appunto è la modalità che ogni singolo ha di adeguarsi all'ambiente di inserirsi positivamente come piccolo protagonista in quell'ambiente è chiaro che bisogna conoscere quali sono i pericoli che quel mondo che quell'ambiente promuove per essere attraverso la paura poterli avvertire e quindi poi cercare di evitare quindi nel primo canto avverte dopo una decina avverte la paura qui comincia subito si apre e si capisce che Dante ha risolto la prima fase ha risolto la paura dice non vado più è bellissimo perché questa è la prima soluzione se uno ha paura dice devo attraversare la strada devo fare o devo fare la parete sud no di uno del K2 per carità non ci vado ho avuto paura solo quando ho piantato il primo chiodo poi ho deciso basta l'ho risolta non vado e qui che cosa succede succede però che in realtà inizialmente inizialmente Virgilio ha il compito di riattivare la paura però anche con un piano di poterla risolvere perché non si arrivi a negare di fare il viaggio ma perché la risolva questa volta oseremo dire secondo virtù e non secondo quella la fuga da un desiderio che si aveva e quel desiderio aveva in qualche modo sia pure inconsapevolmente aveva proprio il grande interesse la curiosità per andare per andare negli inferi vi devo dire che adesso abbiamo indicato quelli che ci sono andati ma questo viaggio lo farei anch'io insomma ecco magari vedendolo prima che dopo il giudizio universale probabilmente ma insomma lasciamo stare questo problema personale ma lo farei anch'io però un punto e questo poi lo chiederò alla professoressa la paura qui principale sembra non essere quella di andare ma di poter ritornare che sarebbe la mia paura professoressa perché dice ma insomma andare va bene però però è proprio nel verso che dice ma non so se poi l'ha venuta se poi il ritorno va allora quindi comincia con Dante che ha avuto paura nel primo canto le belle le belve la fatica le ombre bellissimo la storia del pensiero perché mentre inizialmente l'andare era coronato da pensieri in qualche modo importanti curiosità soddisfazioni poi la paura mostra invece bellissime le ombre no quando invece di aver paura dell'animale si si accorge che era solo l'ombra ed è bellissimo questo perché pensate che le paure che noi abbiamo e che voi avete anzi anch'io faccio una parentesi se qualcuno di voi non ha mai avuto paura tanto da doverli definire si fermi che cominciamo la cura perché perché la paura la paura è parte della nostra esistenza tanto è vero che io mi rifiuto di definirlo dico faccia riferimento all'ultima volta che ha avuto una paura allora che cosa che cosa succede succede che in un primo tempo Virgilio che l'ha già aiutato a superare una difficoltà ed è ancora lì è colui che insomma l'ha aiutato e capisce che è destinato ad accompagnare e quindi con il suo intervento viene quasi richiamato a dire ma la rinuncia per paura è codardia e è rinuncia anche dal punto di vista psichico dal punto di vista che diremo tu passi da una virtù che sarebbe che che vivi nel compiere quel viaggio ad una rinuncia che però ti lascia ti lascia con un desiderio insoddisfatto e quindi li fa li fa rinascere la paura tanto è vero che addirittura qui e non mi pare nel primo canto si parla di guerra quindi nel non qui la paura di guerra e diventa morte perché perché poi appunto Lucia dice ma non vedi che che sta affrontando la morte qui permettetemi non posso citare uno del 300 ma Sigmund Freud ha detto ha scritto che la paura è sempre paura della morte che però assume delle maschere differenti per poter essere come dire affrontabile perché altrimenti la morte finisce per avere un tale effetto da non permetterne nemmeno che i meccanismi di difesa insomma è l'attacco di panico caro professore l'attacco di panico non ammette che vuol dire è la sensazione che uno ha immediatamente di essere vicino alla morte anzi sto per morire e in questo elemento non c'è niente da fare non si chiama nemmeno aiuto cioè è come se fosse se stesse succedendo qualcosa di impossibile qui parlano di morte quindi è è una condizione che è certamente estrema allora allora come come è passato come si può passare dalla paura che perché adesso quel viaggio che prima era visto come interessante pieno di significato di capire anche la commedia umana oltre che divina insomma era proprio capire qual è la storia dell'uomo qual è qual è il senso dell'uomo quindi se vogliamo è anche una ricerca Dante fa un viaggio sì per conoscere l'alto fattore ma insomma lo fa anche per conoscere come è fatto l'uomo insomma come 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 la sostanza umana ecco l'aspetto psicologico allora allora addirittura addirittura una guerra e come fa come facciamo come facciamo noi a passare da una paura non so la paura dell'esame la paura la paura che un certo vento di guerra possa trasformarsi nel premere quei bottoni di cui oggi si parla ed è una vera paura ecco allora che cosa succede e qui c'è c'è un capolavoro di psicologia perché perché cambia la scena adesso ed entrano due personaggi allora mentre fino adesso è lui prima sentiva la paura e ha cominciato una cosa l'ha risolta non ci va e qui cambia completamente la scena ed entrano due personaggi che naturalmente dal punto di vista della esegesi letteraria avete sentito altri non so niente di questo insomma quello che posso dire però i due personaggi quali sono la ragione e la fede la fede come fiducia allora cominciamo subito a dare qualche precisazione a questo termine che lei mi corregga se non so è la fiducia ha la stessa radice di fede solo che forse usiamo questi due termini fede come rivolta al trascendente e quindi come capitolo della della religione insomma fiducia è invece un termine che oserei dire è molto più umano non so hai fiducia del medico hai fiducia la fiducia la fiducia è la forza del legame interpersonale senza fiducia non si può vivere tanto è vero che Darwin giustamente sosteneva che si tratta di un fenomeno secondo questa lettura di un fenomeno la psiche evolutivo che rispetto ad altre specie animali nell'uomo permette di legarsi all'altro senza usare gli istinti cioè l'aggressività la fuga ma addirittura facendo in modo che l'attrazione all'altro sia una forza per produrre la combinazione non dimentichiamoci che la fiducia è un passo verso l'amore e anche qui ha ragione Darwin perché uno dei tre imperativi darwiniani è quello di far continuare l'aspetto e per questo bisogna serve l'amore almeno è auspicabile che la specie continui sempre per l'amore allora allora che cosa questi sono i due personaggi scusate se fosse entrato solo Virgilio ma non avrebbe risolto niente mantovano celebre ha parlato nel sesto canto dell'Eneide ha magnificato ma non avrebbe risolto niente parliamoci chiaro adesso io forse esagero un pochino in questo perché sono l'uomo dei sentimenti io mi occupo degli affetti insomma e no insomma non è che sia impazzisco per i principi aristotelici insomma li seguivo nella scienza ma anche la scienza ha detto che non arriva più alla verità ultima ma sempre a sostituire un errore con un altro si sostituisce una verità che si pensava vera ed è un errore e la si corregge facendo un altro errore che continuerà e in sostanza è bella la ragione permette di cercare sempre la verità e di non trovarla mai insomma permettetemi di dirlo se ci sono qui gli illuministi mi scusino insomma ma la ragione non risolve niente sposta sempre i problemi che cos'è che è importante il secondo personaggio è la fede è l'amore sono i sentimenti e prima di tutto non poteva scegliere persona migliore per rappresentare questo secondo elemento che è quello dell'affetto di Beatrice si era innamorato ha scritto quello che avrebbe voluto fare nella vita nuova e era meglio che facesse anche un corso oggi diremo di aggiornamento dell'eros perché nella vita nuova insomma non vero il professor non c'è allora chi meglio se n'era innamorato aveva più o meno la sua età Beatrice forse un anno un anno di meno rispetto a Dante erano erano coetane insomma si era innamorato muore che meraviglia insomma nel senso che meraviglia nel senso che la sublimazione la sublimazione la mette nel paradiso che parla con Rachele e insomma sembra che sia trovi sempre la porta aperta per il padre celeste no era innamorato lui e quindi e quindi entra assieme alla ragione entrano gli affetti e la cosa bella è questa che Beatrice è curioso che Beatrice prima di tutto fa insegna a Virgilia e l'insegna e gli dice com'è la situazione lassù e lassù c'è in particolare tutto è l'amore che muove ogni cosa è bellissimo e quindi c'è Beatrice che dice dice a Virgilio cosa fare anche perché altrimenti come rappresentante della ragione mai avrebbe vinto la paura insomma se viene da me una persona che è affetta da una da paura acuta da quello che chiamiamo attacco appunto di panico io non gli dico ah siediti caro che adesso ti spiego come avviene la paura e loro dirò che c'è che ci sono il putamen che è un centro importante per la paura o la migdala no gli prendo la mano e gli dico ma sai quanta paura ho avuto anch'io ma non ce l'ho in questo momento e quindi ti posso aiutare quindi qualsiasi sistema razionale scientifico in caso di oggi non avrebbe vinto la paura spiegare perché quello ha paura non gli importa proprio niente mentre sentire una mano che magari trema ma però però vuol dire attaccarsi il corpo insomma e allora e allora dice che cosa e allora tira fuori tira fuori proprio le parole di cui noi parliamo tira fuori del del fidarsi e poi tira fuori proprio quei meccanismi che sono le virtù e c'è un bellissimo gioco mi pare tra tra le virtù poi nel nel canto perché appunto si dice ma questo non è virtuoso quell'altro invece tu devi fare virtuoso che dal mio punto di vista vuol dire ma non devi scappare che è un comportamento difensivo ma devi invece devi invece tenere conto che guardano a te Lucia che guarda a te eccetera che guardano a te nel cielo allora tu devi valutare ciò che fai non per quello che pensi solo tu in questo momento ma addirittura per quello che serve che serve agli altri ed è bellissimo quel passo che insomma stupendo che poi un po' il nucleo dice è bellissimo perché spiega che cos'è la paura ma non la spiega Beatrice ma non la spiega Dante la spiega Virgilio che non capisce niente e e e che cosa e che cosa gli dice perché devi aver paura solo di quelle situazioni o di quelle persone che possono nuocere all'altro che meraviglia perché altrimenti non devi avere paura ed è bellissimo la paura legato al nuocere legato al male e allora e allora qui e allora qui comincia a vedere che la paura sì è un meccanismo biologico se vogliamo dire di difesa nei termini contemporanei però ci sono delle difese dei superamenti della paura che non permettono l'esperienza allora la paura bisogna scappare ma quando ti trovi in condizioni in cui tu puoi fare del male all'altro devo dire che qui c'è una bellezza straordinaria perché la paura è la paura del fare il male e qui credo che persino i teologi avrebbero moltissimo da dire no che è e quella bisogna evitarlo il male ma qui dice ma qui non 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 siamo in questo campo quindi tu vai per conoscere e non sai quante cose potrai apprendere e Beatrice permettetemi prima di dire ma qui credetemi e qui c'è anche una differenza il pensiero è l'uomo l'affetto è la donna e in questo canto lasciatelo dire è un omuncolo insomma no ma qui è un canto di gloria alle donne perché perché sono perché sono la vera la vera identità dell'affetto che parte dalla maternità no perché non dall'amore tra lui e lei ma dalla maternità che vuol dire l'accoglienza di quella di quel bambino di quella bambina che nascono e che senza quella madre non verrebbe accolto non potrebbe vivere questo è l'amore allora c'è tutto quindi c'è Beatrice nel duplice luogo di mostrare a Virgilio che sia importante la tua fama quello che hai detto la storia la storia la storia che poi interessa persino i papi figuriamoci no se nella storia non ci sono i papi soprattutto di quel periodo allora allora questo è bellissimo ma dice ma non basta dice ma come dice è venuta da me Lucia e mi ha detto ma come non ti muovi tu Beatrice quando vedi che quello soffre e non dice perché non ha capito niente ma dice ma come è la pietà la pietà no per lo vecchio il canto di Ulisse no che è il canto della pietà e quindi ecco che ci riporta dentro a questi temi meravigliosi della affettività ed è attraverso l'affettività che lui che lui capisce cioè allora dice dalla paura passa non solo a ritornare alla voglia di andare di farlo ma direi che questa volta non è solo aver ritrovato l'iniziale motivazione a partire ma adesso è molto più motivato tanto è vero in fondo che è lui che il canto si cambia di velocità metrica ma deve far presto andiamo adesso quindi mentre ci sono dei versi anche un pochino noiosi quando descrive tutte le cose verso la fine dice con quella immagine bellissima dei fiorelli ma questo è un capolavoro una roba una cosa ma poi dice che Dante è vecchio Dante è una cosa incredibile pensate che bello allora come si vince il passaggio dalla paura al coraggio riporta ai fiorellini che nella notte si chiudono perché non c'è la luce e che poi il mattino come viene la luce la luce nel senso anche proprio di ciò che vedi di ciò che puoi partecipare e questi fiorellini si aprono ed è bellissimo questa apertura il coraggio come apertura voglia di vedere io ho parlato di coraggio che qui non se n'è parlato ed è una mia interpretazione quindi che vale per me non per le esegesi letterarie insomma però è il coraggio perché esistono due modalità di coraggio quella che noi chiamiamo il coraggio proprio come nei meccanismi psicologici è il coraggio legato alla paura c'è un coraggio slegato dalla paura che è quello dell'eroe e di tanti eroi anche del nostro tempo no salto in un treno che passa mi butto insomma lo sapete penso a molti giovani insomma che buttano si buttano via per un coraggio del nulla un coraggio che è un coraggio per richiamare l'attenzione è un coraggio narcisistico non è il coraggio per vincere la paura il coraggio il coraggio che generalmente viene riportato quando si affronta la morte nelle guerre del passato pensavo che si potesse sempre usare nel passato ecco che cosa lì lì ciò che ti salva è la paura ciò che ti fa muovere ci sono degli studi fatti nella prima guerra mondiale che noi abbiamo visto voi sapete era stata la guerra di Trincea e noi abbiamo delle immagini meravigliose del carso a partire da Ungaretti meravigliose che è proprio è proprio la è proprio la voglia studiare che avevano questi soldati che erano lì nella nella Trincea con il fucile eccetera durante la prima guerra mondiale ecco in cui avevano voglia di uscire uscire voleva voleva dire attaccare i soldati che i nemici che erano appostati in una Trincea un po' più lontano solo che uscendo si erano esposti però avevano una grande cioè era la paura che in qualche modo spingeva all'azione quasi che si vincesse la paura con l'azione ed è esattamente quello che avviene qui quando Dante si è aperto come quel fiorellino dice andiamo andiamo e adesso quello che voglio io lo vuoi persino tu dice a Virgilio no perché adesso comincia adesso serve un po' la ragione perché bisogna prendere il sentiero di destra bisogna stare attenti ma è molto bello questo è il coraggio proprio perché vincere la paura vuol dire agire mentre prima c'era e quindi vuol dire nell'agire non c'è il pensiero di agire qui andiamo cioè non è dice sono pronto di andare aspetta che mi pettino no sono pronto andiamo adesso sono io che voglio dove mi fa presto andiamo mi piace molto questa idea quindi che va dalla paura al coraggio e naturalmente c'è tutta c'è Beatrice che è abilissima abilissima che cosa fa chiama un po' di aiuto dice nel racconto tira fuori ancora un paio di donne chiamatele così no tirano fuori Rachele che bello no immaginare di andare in paradiso e vedere seduta Beatrice con Rachele che dice come vai come vai come stai una meraviglia perché poi è l'esempio della saggezza è una meraviglia è questa Beatrice è proprio stupenda è quella che è quella che conosce Dante in fondo no la conosce nell'azione perché c'è stata la conoscenza insomma l'innamoramento sia pure molto fantastico è molto da stinnovo insomma da allora tira fuori tira fuori addirittura le tre donne persino Maria no perché in fondo non si può parlare di donne se non si fa riferimento a Maria e allora ecco viene fuori questa trinità femminile no nei copini che è affettiva no nei confronti del del quarto che è il maschio che è poveretto è solo razionale no posso dire una cattiveria tanto poi non mi invitate più lo so due volte ma come i teologi non se ne può più no no mentre 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 Francesco mentre ah scusi mentre Francesco 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 è tutto amore ma anche Agostino insomma voglio dire mi sembra molto bella la funzione delle donne che danno coraggio attraverso l'affetto attraverso l'amore e questo è un è un piccolo riferimento ma lo dovete far fare con l'educazione in fondo l'educazione vuol dire insegnare a vivere ad agire questi ragazzi questi nostri adolescenti a cui voglio molto bene ma appunto non sanno poi comportarsi comportarsi vuol dire fare con vuol dire fare insieme e allora possono dire desiderare hanno desideri ma poi ma poi non sanno agire ecco questa immagine delle donne che che insegnano ma non insegnano solo perché parlano perché perché parla in versi come Virgilio eccetera ma perché perché lo mostrano perché sono esempi no mentre secondo me lo so professoressa secondo me Beatrice si gode a prendere un po' in giro Virgilio ma non impara dice tu che parli bene no tu che no perché siccome ha esaltato molto i versi ma però l'educazione non si fa in versi l'educazione si fa proprio attraverso l'amore e quindi allora ecco che cos'è oggi che cos'è oggi la paura e vi ho detto l'avete sicuramente perché la paura è parte dei meccanismi della vita ma che cos'è che ci aiuta a superarla a vivere con minore paura che vuol dire lontani dalla guerra ed ecco perché i nostri frati qui parlano parlano di pace nella pace la paura non scompare del tutto perché si ha paura che scompaia la pace ma ma insomma è proprio è proprio l'affetto il legame e allora ecco perché noi parliamo perché parliamo di fragilità la fragilità non è un sintomo la debolezza lo è ma la fragilità è un limite è una caratteristica umana fa parte della nostra struttura del limite però ha una grande forza perché la fragilità che è fatta anche di paura è una spinta a cercare l'altro perché l'altro è solo l'altro è solo nella unione nel legame nella relazione che la paura viene vinta o viene diminuita ed è bellissimo perché non è che c'è un fragile che è uno che sente il limite ha bisogno di un altro fragile perché quella doppia fragilità unita genera la forza di vivere è bellissima vede professore perché perché non è vero che è il potere che aiuta a vivere è la fragilità è quella che si chiamava la saggezza e i saggi non volevano il potere mai volevano essere semmai autorevoli autentici questo era quello che volevano e quindi concludo con questa con queste presenze è bellissimo che cosa cambia in realtà lui avverte dalla paura che lo portava a non andare a scappare fino a dire ma senti caro io non sono né non sono né 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 sono Lucia non sono Paolo insomma che cosa volete da me quindi trova con la ragione la forza per scappare dice anzi ero folle non c'era il concetto di follia che ovviamente abbiamo noi ma mi pare che lì il folle sia messo in contrapposizione alla ragione perché appunto si dice sembro privo di ragione e quindi è un concetto antico insomma allora voglio dire che cosa è che che dalla paura ci fa vivere tenendo la paura come meccanismo ma che cos'è che ci fa vivere essere legati agli altri e qui il legame diventa doppio con persone che ti illustrano le cose qualche volta abbiamo paura perché non conosciamo e quindi ecco la ragione ma poi c'è l'affetto il legame anche nell'educazione è il fare quante volte i nostri figlioli i nostri nipoti non sanno fare li diciamo ma devi fare c'è anche un'educazione ancora no molto che spinge all'impegno ma dice ma che bello poter dire proviamo a farlo insieme no e allora questo comincia a capire che insieme sa fare qualche cosa e quindi voglio dire l'affettività non ha bisogno di parole l'affettività è silenzio verbale ma è grande movimento grande comportamento accettazione comprensione cioè è tutto ciò che veniva definito nelle virtù ed ecco ancora allora che il gioco che mi piace molto delle virtù nel testo dantesco oggi lo si può leggere le si possono leggere anche come i nostri meccanismi di difesa non so Anna Freud che era la prima che ha stilato anche lei il numero dei meccanismi di difesa ha ha descritto dieci meccanismi di difesa e fosse stata una mia lieva gli avrei detto si fermi a sette ma insomma no perché sette perché sette riporta alle virtù eccetera insomma ma voglio dire non c'è bisogno non c'è bisogno di parlare e allora credo che insomma questo canto sia certamente una educazione meravigliosa a insegnare come si esce dalla paura conoscendo e amando e facendo le cose con gli altri ecco non solo questo ma permettetemi anche secondo quelli che sono i miei vizi di vedere soprattutto gli affetti di io leggo in questo canto una sottolineatura particolare e trovo straordinaria proprio a vantaggio del voler bene che significa del poter condividere anche la paura così come si deve condividere la gioia non la felicità la felicità è quella dell'io la gioia è insieme e passa il gaudium nei Vangeli li ho contati ci sono 20 volte 28 volte citato gaudium non c'è mai il termine fortù e felicità ma allora voglio dire è questo hanno bisogno vincere la paura vuol dire vuol dire insomma mettere in atto le nostre capacità affettive che vuol dire la stima vuol dire il rispetto la curiosità dell'altro e questo fa sì che possiamo vincere la paura e partire non tanto per andare all'inferno ma per fare in modo che questa terra non divenga l'inferno come alcuni fatti e alcuni potenti veramente in questo caso folli stanno facendo apparire questo nostro bellissimo paese grazie 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 ringrazio moltissimo il professor andreoli come ringrazio moltissimo anna pegoretti e jacopo trebi direi che anna davvero ci ha fatto capire questo canto secondo dell'inferno jacopo ce l'ha fatto sentire in tutti i suoi significati la sua potenza e la sua bellezza e il professor andreoli direi ce l'ha fatto vivere ce l'ha fatto vivere come qualcosa che non è lontano sette secoli ma è nella nostra vita nella nostra esperienza e nel nostro futuro quindi credo che sia stata davvero bella la scelta di questo canto che ci ha mostrato come passare dalla paura che abbiamo visto nel primo canto verso il coraggio perché in effetti alla fine del canto Dante dice dopo tutto questo tanto buono ardire al cormicor il coraggio è il buono ardire non quel coraggio folle ma quel coraggio che viene dalla fiducia e che viene dall'amore per cui con questo coraggio e con questa fiducia ringrazio davvero ancora i nostri ospiti e vi do l'appuntamento se volete per sabato prossimo alla prossima al prossimo incontro della lettura d'Antis franciscana alla biblioteca San Francesco quindi al convento di San Francesco che è a Bologna grazie a tutti e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti